La Lucia Borgonzoni si occupa di cultura ed è fondamentale perché a differenza di quello che diceva qualcuno la cultura dà da mangiare, la cultura è lavoro, la cultura è bellezza, la cultura è futuro. Spero che si possa occupare anche di innovazione e penso alle sovrintendenze. Leggevo oggi che la sovrintendenza di Napoli, poi cercheremo di capire perché, ha bloccato la ruota panoramica che volevano montare nel porto di Napoli. Ora io penso che con tutti i problemi che ci siano a Napoli la sovrintendenza più che di occuparsi di ruote panoramiche potrebbe occuparsi di altro. Ma questo vale anche per qualche uomo di governo che dice cosa si deve o non deve fare a Milano. Noi abbiamo assolutamente bisogno di uno stadio nuovo, moderno, sicuro ed efficiente. Punto a capo. E quindi ognuno si occupi del suo mestiere, però qua ci sono dei privati che sono disponibili a investire un miliardo e due sulla città e buon Dio lasciamoglielo fare.